ciao ragazzi bentornati su mega wow so che non state più nella pelle e volete vedere chi combatterà oggi nell'arena di ready to robot anche oggi sarà una sfida all'ultimo colpo chi saprà usare meglio le proprie armi vediamo benvenuti al ready to robot stasera ci sarà un posto disponibile nel meltdown in un mega scolto speciale dove ogni colpo sarà permesso si riconfermerà campione per la quinta volta hardware o l'attaccabrighe artico troppo freddo per andare a scuola ti piace l'ustione da congelamento l'ustione da congelamento è un'affermazione un po ardita per un semplice frigorifero fantastico amici hardware è tornato più agguerrito che mai questi due sono ready to robot hardware si sta liberando da una potente bufera di slime come uno jedi da libernazione un momento guardate mongo è entrato nell'esagono la situazione sta diventando più complessa esplosioni caos sta succedendo praticamente di tutto ma solo nei confronti di hardware fermo prima di finirti dimmi che cosa hai fatto al mio bot blaster stai cercando questo mongo ho dato una bella remixata al tuo amico l'ho chiamato beat bot blaster questo sì che è un colpo di scena mongo e termo non possono competere con remix e il suo beat bot blaster remix me la pagherai appena ti metto gli artigli addosso forse stiamo assistendo alla nascita di un nuovo campione non così veloce che cos'è hardware è ancora in gioco è sul muro dei rottami e sembra essere più carico che mai chi è ready to robot incredibile hardware ha smentito ogni previsione aprendosi la strada verso l'evento clou il meltdown condotta antisportiva di mongo c'è qualcosa che non possa fare nessuno può prendere bot blaster e passarla liscia remix ha esaurito la fortuna chi affronterà hardware nel meltdown lo scopriremo nella prossima puntata di ready to robot seguite il testa a testa di mongo e remix nella prossima battaglia non ci posso credere sono stato fino all'ultimo secondo col fiato sospeso questi robot sono troppo agguerriti chi volete vedere la prossima volta nell'arena dei ready to robot scrivetelo nei commenti e iscrivetevi al canale ciao 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 ciao